Ciao Alberto, siamo reduci da una finale, che analisi fai della tua gara? Una gara che ovviamente non è la tua, è un test, però ovviamente come tutte le gare che sono un test danno dei segnali importanti per quella che è la prestazione obiettiva. No assolutamente, ci tenevo molto oggi questa gara, era un po' la mia gara qualche anno fa, avevo un personale molto vecchio il 2017, era tanto che non li facevo e oggi, visto stamattina, ho delle buone sensazioni, proviamo a vedere se riesco a fare il personale, ce l'ho fatta, quindi sono davvero contento, sono felice, mi sto divertendo, sono venuto qua un po' per divertirmi fondamentalmente, è comunque un test importante, c'è ancora un po' di forma dai mondiali, quindi ho fatto prima a fare due gare un po' diverse, tanto che mi annoio a far sempre le stesse, quindi così un po' di divertimento e comunque sono buoni test anche questi qua, anche un 50 che sembra inutile, può dare delle buone sensazioni in vista anche di tutte le mie gare poi future. Certo, infatti siamo abituati a vedere un atleta sempre focalizzato sulle stesse gare, ma magari non cogliamo il fatto che una gara come quella che hai appena fatto in realtà è un test importante, tu comunque hai la qualifica in tasca, però questo non significa che non bisogna andare a valutare degli aspetti importanti in vista della costruzione di una gara più complessa come quelle che sono le tue. No, assolutamente, io poi per fortuna adesso avendo già tutti i miei tempi sicuri per le Olimpiadi ho appunto cercato di cambiare un po' perché come ho detto far sempre le stesse gare poi mi annoio un po' diciamo tra virgolette, quindi secondo me perde, quando ti abituisci a far troppo le stesse gare, almeno parlo personalmente, perdi anche un pochettino qualcosa di voglia di metterci, quindi magari non riesci a dare il 100% ma lo vantano alla volta, quindi a me è sempre piaciuto nella mia carriera anche da piccolo fare tante gare diverse, cambiare spesso, quindi ora che ho avuto la possibilità di non poter fare le mie gare e di provare delle altre, sono molto contento di averlo fatto e sta andando anche bene, quindi dai, sono contento. Bene, allora buon lavoro per il ProSegno. Grazie. Grazie, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.